Passa anche da Arezzo la corsa alla segreteria del Partito Democratico del Ministro alla Giustizia Andrea Orlando in città per un incontro alla Borsa Merci. Una sala strapiena per Orlando in platea sia i sostenitori dell'attuale guardasigilli ma anche i tanti renziani reduci dal lingotto, la chermessa torinese di Matteo Renzi. Tra quest'ultimi Lucia De Robertis, Marco Donati, Alessandro Caneschi e Denzo Broggi. Ovviamente in platea anche chi ha già palesato il proprio sostegno al Ministro alla Giustizia, come la senatrice Donella Mattesini, l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e il segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Dindalini. In sala anche alcuni rappresentanti sindacali della CGL, la cui presenza non è di certo passata inosservata. Io mi auguro che con Orlando possa tornare sereno con la società italiana perché credo che noi abbiamo bisogno per svolgere il nostro ruolo di forza riformista, di un rapporto cordiale con tutta la società italiana, con le forze sociali, con chi le riforme le vive, ne vive gli effetti, mantenendo una distinzione di ruoli perché i mestieri sono diversi ma non perché si fanno mestieri diversi bisogna smettere di parlarsi. Ovviamente in terra retina il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha parlato anche della vicenda Banca Etruria. Sulla vicenda giudiziaria credo che sia evidente che io non posso esprimere alcun tipo di valutazione. Sulla questione delle banche l'attenzione del governo è rivolta a cercare di alleviare quanto più possibile le conseguenze della vicenda che ha riguardato anche Arezzo.